E' il miglior regalo di compleanno anticipato. Questa l'emozione di Margaret Keenan, la 90enne nordillantese a cui è stato sottoposto il vaccino prodotto dall'Ap Pfizer. Un primato mondiale che inaugura la tornata vaccinale partita nel Regno Unito. La stessa regina Elisabetta, 94enne, insieme al principe Filippo, che di anni ne ha 99, riceverà il vaccino il prima possibile, in quanto fascia a rischio vista la sua veneranda età. A sottoposte al vaccino sarà anche il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Quest'ultimo si farà somministrare il vaccino non appena possibile, senza ovviamente scavalcare l'ordine delle priorità delle categorie a rischio. L'annuncio del Capo dello Stato ha un forte valore simbolico ed è chiara la sua indenzione di sensibilizzare i cittadini sulla necessità di vaccinarsi. Dagli Stati Uniti arriva la prima luce verde al tanto famigerato farmaco anticovid della Pfizer-BioNTech. Il prodotto è efficace e sicuro, ha rilevato in un rapporto postato online la FDA. La mala riunione, in cui la stessa dovrebbe dare il via alla somministrazione del siero, è prevista in settimana. Inoltre, numerosi personaggi influenti, a partire dal neoletto governatore Joe Biden, passando per gli ex inquilini della Casa Bianca Obama, Bush e Clinton, hanno dichiarato la volontà di sottoporsi all'iniezione del farmaco. Novità anche dagli Emirati Arabi, dove è stato registrato il vaccino sperimentale della cinese Sinopharm, la cui efficacia si è testata all'86% contro il Covid-19, in base a un'analisi provvisore dei test di fase 3 iniziati a luglio. Grazie a tutti.